Le Marche e l'Abruzzo sono tra le 24 migliori località dove ritirarsi dopo la pensione, secondo la rivista americana Forbes, che ha stilato una lista di destinazioni top in tutto il mondo. A segnalarlo, il presidente della regione Marche, Luca Ceriscioli, sulla sua pagina Facebook, in un post di qualche giorno fa. Le Marche, ancora una volta, dice il governatore, nominate tra le migliori destinazioni di buon ritiro dopo la vita di lavoro. La rivista americana Forbes cita la nostra regione tra le mete ideali. Già nel 2010, un'altra testata statunitense, la ARP, ci aveva inserito tra i cinque luoghi al mondo da scegliere per trascorrervi la pensione. Tra gli indicatori scelti dalla rivista, che suggerisce anche di andare fuori dalle grandi città, il costo della vita, la qualità dei servizi sanitari, le formalità per ottenere la residenza, il clima, tuona orgoglioso Ceriscioli. Immaginiamo che l'aspetto della sanità, segnalato dalla prestigiosa rivista Stelle Strisce, sia l'aspetto che più è balzato agli occhi del governatore, avendo lui stesso ancora la delega alla sanità. Ma forse agli eredi dello zio Tom quello che ha fatto pendere l'ago della bilancia a nostro favore è anche il dato sulla longevità dei marchigiani, tra i primi posti a livello nazionale. Nelle Marche, in particolare nella provincia di Pesaro Urbino, si vive a lungo. La popolazione arriva mediamente a 83 anni. Marche quindi terra di ultracentenari. Le ultime rilevazioni statistiche ci dicono infatti che nelle Marche sono ben 550 gli ultracentenari, secondo gli ultimi dati Istat del 2017. E da allora hanno pensato oltreoceano. Se loro campano bene e così a lungo, tanto vale andarci anche noi. Gli americani dicono che le Marche, quindi anche la nostra provincia, sono il posto ideale per passare insomma la pensione, l'anziarità. Non credo proprio. Non è di questa parere. No, perché tutti vanno fuori. Chi nelle isole, chi in altri paesi stanno tutti meglio di noi. Dopo se è vero, non lo so. Dicono che sanità, che cibo sono buoni. Quello sì, il cibo è buono, la sanità un po' meno, però va bene. Voi cosa ne pensate? La pensione, avere una pensione buona, sì. Cibo, è buono il mangiare, il clima. Si sta bene, il cibo, il clima è buono qui, è una zona abbastanza buona. Quindi loro dal di là con i soldi loro qui dicono... Ma loro fanno i signori qua, vengono con i dollari, la valutazione, la valutazione del dollaro. E quindi stanno bene loro? I posti ideali sono altri per la pensione, per quelli che prendono il minimo. Sarebbero? Le Canarie o altri posti, il Portogallo, mi hanno detto che in Bulgaria addirittura abbiamo una bella gastronomia. Quindi loro vedono queste robe e dico per fortuna non venire qua. Volei vedere.